Conclusa la fase di selezione dei 160 lavori presentati da 70 artisti di tutta Italia, ora segue il momento espositivo delle opere del Premio Nazionale di Umurismo e Satira Cartoon SEA. Il concorso per vignettisti e disegnatori ideato e sostenuto da SEA Group SRL con il patrocinio del Comune di Fano e della Provincia di Pesero e Urubino ha proposto per la sua settima edizione il tema della terra, un argomento incentrato sulla sostenibilità ambientale che come consuetudine ogni anno si alterna con quello della sicurezza sul lavoro. A vincere il premio ad aggiudicarsi la cifra di 1000 euro è stato Lele Corvi con risorse, all'artista aspetterà sia una mostra personale che il ruolo di nuovo presidente di giuria nella prossima edizione. A secondo posto poi i due premi da 500 euro ciascuno, aggiudicati dai disegnatori Andrea Pecchia e Giuliano Rossetti. Il premio speciale invece istituito lo scorso anno in memoria dell'artista Franco Rigone, vincitore della prima edizione del concorso, è stato vinto dal 26enne Leonardo Cannistrà con la sua opera Karma. I lavori vincitori verranno esposti all'ex chiesa San Michele a Fanno in una mostra che verrà inaugurata sabato 25 luglio alle ore 18. Sarà arricchita inoltre da una selezione di ulteriori 40 opere, dalla monografica dell'artista Fricca, Filippo Ricca, vincitore della scorsa edizione e presidente di giuria di Cartunsea 2015. Sarà possibile visitarla fino a domenica 9 agosto, dalle ore 18 alle ore 23. Alcune vignette e disegni presentati a Cartunsea verranno inoltre selezionati e inviati al Festival dell'Energia e del Design a Firenze, dove rimarranno esposti dal 31 ottobre al primo novembre prossimi. Sulle altre cose abbiamo confermato, giù gli altri aspetti, tutte le iniziative fatte negli anni passati. Abbiamo solo ridimensionato un po' il portare fuori in giro per la città con alcune iniziative collaterali, come facciamo gli anni passati, ma è una riflessione momentanea, per cui cercheremo di capire meglio quali sono le iniziative che attirano più la gente e soprattutto quelle che sono più confacenti allo scopo che ci siamo dati, cioè quello di aumentare la cultura della sicurezza e la cultura del rispetto dell'ambiente. Attraverso la satira, se a gruppo, grazie alla capacità intuitiva del patron dell'iniziativa, Oscardo Severi, in pochi anni è riuscita a raggiungere l'obiettivo prefissato, aumentare la sensibilità e l'interesse verso i temi di cui la società tocca mano quotidianamente da oltre 25 anni. In questi periodi di crisi, ha detto l'assessore all'ambiente Samuele Mascarin, è difficile trovare privati o aziende che credono e investono su appuntamenti di carattere culturale. Perché affrontare temi come la sicurezza sul lavoro o i temi della salvaguardia ambientale è ovviamente una sfida, una sfida perché comunque satire e umorismo richiedono l'attivarsi di una serie di interrogativi non da poco e soprattutto assumersi anche una consapevole, diciamo così, cittadinanza dentro un mondo che cambia e che richiede soprattutto sui temi dell'ambiente oggi un impegno a 360 gradi. L'appuntamento di Carton Sea è arrivato alla settima edizione, da questo punto di vista è non solo una grande opportunità per i giovani artisti ma è anche un bel momento di riflessione per tutta la comunità fanese.